capilla lunga, capilla corta non mettere la conna corta oi, non ne esce quante sono le imposizioni violente che tutti i giorni e femmina subiscono in tutto il mondo ma soprattutto una, sempre stesso, ovunque state zitte, non parlare perché parlare è l'inizio della libertà è rivoluzionario femmina silenziose della mia Napoli non abbiate paura di parlare parlare è la vostra protezione più potente qualunque sia il vostro paese d'origine la lingua, la religione o il tipo di violenza che state subendo Napoli è al vostro fianco parlate, rivolgetevi ai CAV ai centri antiviolenza troverete ascolto, orientamento, sostegno e nel caso anche un supporto linguistico-culturale che vi aiuti a uscire dalla violenza ed ad essere padrone finalmente padrone della vostra vita anche io lotto insieme a voi io lotto è l'iniziativa promossa dall'assessorato alle varie opportunità del Comune di Napoli è finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti e denunciare i loro oppressori i centri d'ascolto possono darti un aiuto concreto anche solo con un consiglio fai sentire la tua voce chiama il 1522 o scrivici in chat